Torniamo finalmente dopo un po' di tempo a parlare di fotocamere istantanee, ovvero di fotocamere che possono scattare foto come queste, ovvero su pellicola, in questo caso Instax Mini, un formato, devo dire, molto simpatico che abbiamo già visto su tanti altri dispositivi Fujifilm e non solo, e lo facciamo con quella che probabilmente è la regina delle fotocamere istantanee, mi verrebbe da dire in questo momento la miglior fotocamera istantanea che potrete comprare. Scoprite perché all'interno della nostra recensione completa. Scopriamo un pochino più da vicino questa Instax Mini Evo Hybrid, eccola qua, molto compatta, devo dire, sicuramente una delle più compatte in assoluto per il mercato istantanee, forse la più compatta, almeno per quelle con pellicola Instax Mini. Design semplice, vintage, tra l'altro non sporge particolarmente qui la sezione della lente, non sporge neanche troppo la sezione dietro del display, ve la faccio vedere un po' su tutti i lati e ve la racconto. Allora, qui di fianco abbiamo intanto la vite per il cavalletto, molto bene perché è un fatto spesso trascurato, qui sotto questo sportellino abbiamo lo slot per la microSD che ho messo e quello per la microUSB per la ricarica, peccato non USB-C, peccato, mi tocca tenere ancora in giro un cavo microUSB solo per questo. Qui è da dove escono le foto, qua sopra abbiamo la parte più consistente di comandi, abbiamo una prima selezione qui per le lenti e poi vi faccio vedere cosa vuol dire, qui abbiamo l'aggancio per il flash, anche questo molto bene spesso trascurato, tasto per i preset, tasto di scatto e tasto per, non per riavvolgere la pellicola, ma per, in questo caso, stampare. Una bellissima idea anche perché, sentite, il rumore è veramente quello delle fotocamere analogiche di altri tempi. Qui abbiamo tasti di navigazione forse un po' piccolini, a volte se uno non andasse intuito non si capirebbe neanche che ci sono delle direzioni, tasto ok, indietro, riproduci e più, poi vedremo che cosa vuol dire. Frontalmente cosa abbiamo? Abbiamo il selettore qui per l'accensione, quindi la fotocamera si accende da qui, qui abbiamo una ghiera che gira per andare a selezionare gli effetti, poi abbiamo uno specchietto per i selfie, un altro tasto di scatto, comodo se volete per esempio farvi una foto così selfie, è più comodo che farlo qui, o comunque decidete voi com'è più comoda la presa, e un sensore per l'autofocus perché c'è l'autofocus, grazie a Dio, e un sensore flash. L'autofocus è indicativo anche qui, c'è scritto da 0.1 all'infinito, quindi veramente molto bene, anche perché molte delle fotocamere istantanee non hanno nessun tipo di messa a fuoco automatica. Tra l'altro ci sono i fori, li vedete per il laccetto che è incluso in confezione, che io ho messo perché trovo molto comodo. Vado ad accendere la fotocamera, non velocissima ad accendersi, c'è prima il logo, poi il suonino e poi è pronta. Quando voi inquadrate il soggetto, la fotocamera va a mettere a fuoco, sentite, c'è anche il suono, e c'è anche il simbolino verde come nelle fotocamere professionali che vi fa vedere dove ha messo a fuoco. E queste sono cose che nessun'altra fotocamera di questo tipo offre, o quasi, vedete ora per esempio il rosso perché non ha messo a fuoco, quindi vi dice chiaramente che c'è qualcosa che non va. Quali sono i comandi che potete usare qui? Scorrendo lateralmente la fotocamera è pensata per essere usata principalmente così, quindi tutti i menu sono girati così. Auto flash, quindi non sempre attivo, anche questo racconta molto, vuol dire che comunque è capace di fare buone foto anche senza flash, per le istantanee non è una banalità. Modalità macro, quindi per forzare una messa a fuoco ancora più da vicino, vediamo se così ce la fa, e infatti ce l'ha fatta. E poi abbiamo il tipo di white balance, quindi auto, esterno, nuvoloso, trenneon, interno, eccetera, eccetera, insomma le funzionalità classiche. Cosa sono i due selettori rotanti che vi ho fatto vedere prima? Allora, questo è per la pellicola, ovviamente con le virgolette vivida, pallida, canvas, monocromatico, seppia, giallo, rosso, blu, retro e fine, normale. Quindi sono, sì, dieci in tutto. Mentre invece per quanto riguarda questa ghiera, questi sono gli effetti. Qui abbiamo normale, metà frame, quindi vi permette di fare due foto e poi stamparle nella stessa pellicola. Doppio esposizione, quindi due foto, una sovrapposta all'altra. Specchio, e qui potete veramente sbizzarrirvi. Ingresso di luce, quindi filtra dell'effetto filtraggio luce, qua sotto la vedete, questo bordo giallo. Poi abbiamo color shift, anche questo è simpatico, sembra quell'effetto sfocatura tipo vecchie tv con le VHS dentro. Fish eye, è ovviamente artificiale, sfocato, sfocato leggero, vignettatura e normale. Queste sono tutte le opzioni. Vi faccio vedere i preset. Allora, questo tasto in realtà mi sono espresso male. Non serve per attivare preset, ma serve per vedere qual è il preset che avete scelto al momento. Mentre invece, o almeno quale sono le impostazioni che avete scelto al momento. Mentre invece, se premete sul più, qui potete andare a fare invoke e andare a scegliere i preset che magari avete salvato. Per esempio, io ho salvato la combinazione di pellicola vivida con l'ingresso di luce qui sul fianco. Mi piaceva questa combinazione, è forse una delle poche che ho usato più volte, quindi me la sono messa lì a disposizione. Non è proprio intuitivissimo, non è velocissimo nei passaggi. Non so, forse spesso in tanti casi fate quasi prima a riselezionarla qui con le rotelline, ma può essere comodo. Premete il più, ripremete il più, scorrete sul 2 e date ok. Questo è quanto. Come funziona il processo di scatto e di messa a fuoco e di stampa? Scusate, allora facciamo una foto così vi faccio vedere. Quando fate una foto, quello che succede è che la salva nella fotocamera. C'è spazio per 45 scatti espandibili tramite microSD. Premendo su play potete ovviamente andare a rivederla. e ovviamente quello che potete fare è poi stamparla. Ci sono altre opzioni, vi faccio vedere. Quindi se voi premete su menu ok potete cancellare, ruotarla, copiarla, storia di stampa. Trasferirla al vostro smartphone, esatto. Quindi potete trasferirla al vostro smartphone e fare quello che volete. Per esempio caricarla su Instagram per qualche ragione. Tipo di stampa con la rich mode viene un pochino più ricca appunto la foto finale. Ci mette due secondi in più a uscire dalla fotocamera. Luminosità della stampa, orario, orario sulla foto, lingua. Non c'è la lingua italiana quindi ho tenuto in inglese almeno per ora. E poi vabbè le impostazioni della fotocamera in pratica. Quindi auto power off, reset e aggiornamento del firmware. Chissà che possa arrivare anche la lingua italiana. A questo punto se voi avete scelto tutto quello che volevate siete pronti per stampare la foto. E come funziona? Ve l'ho detto, c'è anche scritto print. Voi fate così e voilà. In questo caso come vi ho detto ci vuole qualche secondo in più per la modalità rich. Dopodiché partirà un'animazione, ve lo sto spoilerando, di fuori uscita della foto. E poi uscirà la foto che ovviamente avrà bisogno ancora di qualche minuto per essere pronta. Vi racconto semplicemente una cosa, mentre qui esce la foto, poi vi farò vedere il risultato dello sviluppo alla fine. Questa fotocamera ha un pregio notevolissimo che è la qualità dello scatto. Non vi aspettate scatti da iPhone o da Galaxy S22. Con uno smartphone top di gamma farete sempre comunque foto migliori. Ma attenzione, anche in quel caso vi tornerà utile. L'unica cosa che mi sento di dire è che rispetto alle altre fotocamere istantanee qui siamo veramente un passo in avanti. Anche e soprattutto ci sono le impostazioni di bilanciamento del bianco. C'è la messa a fuoco automatica che funziona bene fino a 10 cm. Insomma, è veramente una fotocamera che mette in difficoltà dal punto di vista della qualità dei concorrenti. Difetto, il vero difetto di questa fotocamera secondo me è la qualità del display. Non è touch, chi se ne frega, ma gli angoli di visione sono molto scarsi. Che cosa vuol dire? Se volete fare una foto per esempio dal basso e quindi inclinate un po' la foto, guardate, praticamente non vedete più cosa scattate. Cioè, vedete, ma la qualità è molto peggiore rispetto a quello che poi davvero verrà fuori. Quindi dovete chinarvi anche voi per avere sempre lo schermo dritto davanti ai vostri occhi, altrimenti non riuscirete a vedere per bene il risultato finale. E qui intanto la foto si sta sviluppando. Vi faccio però vedere anche l'applicazione per smartphone, perché questa applicazione vi connette di fare... Questa applicazione, scusate, una volta che vi siete connessi al vostro, qui lasciamo la fotocamera in sviluppo, che vi siete connessi alla vostra fotocamera, vi permette di fare molte cose interessanti. Intanto le impostazioni, vabbè, queste sono alcune impostazioni per il controllo remoto della fotocamera, che nel frattempo è andata giustamente in standby, perché non l'ho utilizzata per un periodo prolungato. Potete trovare le foto che avete trasferito dalla fotocamera qua dentro. Potete andare a fare scatto remoto, quindi in sostanza vi faccio vedere, potete anche addirittura attivare il live view, ci metterà un istante, dopodiché guardate, voi muovete la fotocamera e vedrete da lontano che cosa è inquadrato, e poi potrete scattare, quindi usare questo smartphone, magari dopo che avete messo la fotocamera su un cavalletto, come un viewfinder a distanza. Ma forse la cosa più interessante di tutte è questa, direct print. Adesso lo sposto un attimo per privacy, faccio select image e seleziono una foto che voglio stampare, eccola qua. Dopodiché posso andare qui a regolare alcune cose, come per esempio lo zoom, oppure posso ruotarla leggermente, la rimetto dritta, qui c'è il tasto per la rotazione, filtri, se volete applicare dei filtri, ma sono soltanto questi, con auto va a aumentare molto la nitidezza, il che su una pellicola istantanea può essere comodo, e poi un po' di correction. Dopodiché premo su print, tra l'altro qui ci sono dei pallini sulla fotocamera che indicano quante pellicole ci sono ancora, confermo che voglio stampare, e quello che sto facendo è usare la fotocamera, questa Instax Mini Evo Hybrid, come stampantina portatile per le foto scattate dal vostro smartphone, quindi doppia utilità. In più il fatto che sia veramente ibrida, quindi abbia una memoria interna, vi permette di stampare tante foto, scusate, scattare tante foto, stampare solo quelle che volete, e stamparne quante ne volete, quindi della stessa foto ovviamente potrete fare più copie per distribuirle magari ai vari amici. E siamo quindi arrivati alle conclusioni, questa era Fujifilm Instax Mini Evo Hybrid, una fotocamera istantanea quasi perfetta mi viene da dire, se non fosse per il prezzo, 199€ che non sono affatto pochi per una fotocamera istantanea, pensateci, a quel prezzo potete comprare tranquillamente delle fotocamere digitali con qualità di scatto decisamente superiore, ma il senso quale sarebbe? Visto che probabilmente avete in tasca uno smartphone che fa comunque foto molto buone. Questa fotocamera si fa per donare il prezzo con tante piccole chicche come gli effetti per lo specchio, gli effetti per il fisheye, ma soprattutto per la possibilità di scattare quanto volete, stampare solo quello che volete e quanto volete, oltre alla possibilità di spostare le vostre foto sullo smartphone e quindi conservarle al sicuro, postarle online, o al contrario di usarla come stampante portatile per stampare le foto invece che avete sul vostro smartphone su un formato analogico in pochissimi secondi. Insomma, l'avete capito. Secondo me, lo confermo, come detto all'inizio video, questa Evo Hybrid è la fotocamera istantanea per definizione. Se non avete problemi di budget, se volete fare un regalo che non abbia praticamente difetti, ecco, questa, un regalo ovviamente a fotocamera istantanea che non abbia difetti, questa è la risposta. Bravissima Fujifilm che ha messo insieme un po' tutte le sue idee che abbiamo visto in vari dispositivi lanciati in questi anni, tutti all'interno di un prodotto appunto quasi perfetto. Grazie per essere arrivati fino a qui, se il video vi è piaciuto supportateci iscrivendovi al canale e attivando la campanella delle notifiche. Un saluto da Emanuele Cisotti per Smartworld.it